Sarò piaciuto ai tuoi genitori? Sì! Possiamo sbaciocchiarci? Oh, ho dimenticato il mio... Oh mio Dio, è così erotico! Scommetto che sai di rugiada di montagna mista a polvere di stelle. Ciao, Anthony. Salve, signora Griffin. Siamo talmente felici di vederti così spesso a casa nostra che ti abbiamo fatto un piccolo regalo di benvenuto in famiglia. Gli orari in cui il suo marito lavora e gioca a poker. E ci sono anche le date del mio ciclo, ma io non penso che sia un problema. Eh, grazie. Anthony, vuoi venire con me? Certo. Oh, non essere ridicola. Gli terrò compagnia io fino al tuo ritorno. Ciao, ciao, Meg. Mettiamo le carte in tavola. L'altro giorno hai detto che ero attraente. Allora, che cosa vogliamo fare? Oh mio Dio, cavolo, sono così emozionato. Nessuna donna grande ci aveva mai provato con me. Posso... posso baciarla? Prima una domanda. I miei capelli grigi ti disturbano? Quali capelli grigi? Oh, baciami! Mamma, ho dimenticato le chiavi. Sai dove... Stupro? Meg, tesoro, dobbiamo parlare. Non voglio parlare con te. Vattene! Senti, mi rendo conto che sei arrabbiata. Ti stavi sbaciocchiando con il mio ragazzo. Come hai potuto farlo? Non lo so, tesoro. Io sono veramente mortificata. Ho fatto una cosa terribile. Non volevo portartelo via. È questo che pensi? Che me l'hai portato via? Stai scherzando? Non potresti mai rubarmelo? Beh, io ho una certa esperienza, Meg. Quindi se lo volessi davvero, potrei farlo. Davvero pensi di avere speranze? Ma guardati, sei vecchia. Sei insignificante. Non puoi neanche immaginare le cose che faccio con lui. E non mi riferisco solo a quattro bacetti, ma a veri giochini erotici. Io faccio cose che tu non accetteresti mai. Faccio tutto per lui. Tu non mi conosci bene. Oh mio Dio. Lui mi appenda alla doccia con il tuo vecchio reggiseno e poi ridiamo di te. E ora fuori dalla mia stanza. Beh, quando ti va di parlare. È un po' di. Grazie.